cosa ciao a tutti ragazzi volevo dire un'altra cosa mi sono combinato anche questo elastico per fare i pettorali devo dire che è buono cioè alla fine si può è utile diciamo è costato pochissimo se avete pochi budget si chiama con ranked ve lo comprate vi fate i pettorali va bene ragazzi ci vediamo al prossimo video iscrivetevi al canale e lasciate un like ciao a presto